buongiorno a tutti allora dopo aver parlato della europa league avervi dato i risultati aver commentato anche cosa hanno combinato le squadre italiane andiamo a vedere che cosa ha combinato la roma in conference league e poi anche i risultati della conference allora la roma aveva iniziato malissimo perché mamma mia che gollonzo che hanno cioè io ho comprato mancini al fantacalcio e gli vedo fare una cagata del genere scusate il francesismo pronti via cari che uccella sbertuccia i due difensori tra cui lo stesso mancini della roma ci passa in mezzo come bel burro e poi dopo da posizione abbastanza ravvicinata anche se leggermente defilata calcio calcia sotto l'incrocio dei pali un missile da 3 4 metri dalla porta che il povero portiere della roma manco vede poi però la roma pareggia pareggia con pellegrini ritorno passa in vantaggio con il shalawi segna ancora pellegrini il primo gol di pellegrini è da libidine doppia libidine tripla libidine con triplo con tripli feocchi perché veramente stoppa la palla pallonetto così come come bere un bicchier d'acqua poi segna anche mancini che si fa perdonare dopo che smollin prende un palo clamoroso la palla torna indietro mancini è lì deve solo spingerla dentro e poi segna anche un golletto a bravo e sono contento visto che anche lui l'ho preso al fantacalcio l'ho pagato anche 140 crediti quello che ho pagato di più anzi no 90 140 ho pagato vlavic ho la coppia d'attaccanti abraman vlavic che non è male quindi roma 5 a 1 5 poi dopo senti murigno che dice eh no non abbiamo giocato bene non mi sono piaciuti i terzini non hanno spinto e la madonna se quando vinci 5 a 1 non sei contento quando perdi cosa succede vai a l'ur direttamente vabbè ormai il murigno che c'era all'inter non esiste più spiace dirlo per i tifosi della roma ma si è un po' imborghesito poi sta facendo ottimi libidi non ancora perso eccetera già ha messo le mani avanti quando perderemo dovremo pensare boh non vorrei che se l'ho pezzato anche lui tra un po' lo sentiremo dire i ragazzi entrano in campo ma sanno di essere inferiori alla squadra avversaria quindi boh vedremo comunque martedì si sono giocate due partite della conference il maccabi telaviva ha disintegrato 4 a 1 l'alaskert l'alaskert mentre invece il maccabi ha fatto 0 a 0 col feenor però credo che un pareggio in casa contro un feenor possa comunque far piacere ai tifosi del maccabi alfa proseguiamo con le partite che si sono disputate ieri cioè giovedì allora kairat o monia di così è terminata 0 a 0 e già lì mi viene la tristezza il l'asca è andato a vincere 2 a 0 in casa dell'aik appa il flora è stato battuto 1 a 0 dal ghent ghent in casa il flora ghent 0 1 lo slavia praga ha battuto nettamente 3 a 1 l'union berlino che tra l'altro è rimasta anche in 10 il lincoln reddives come previsto ha perso 2 a 0 in casa contro il pauc salonicco lo slovan brattislava ha perso 3 a 1 in casa col copenhagen copenhagen come mi piace dire copenhagen vecchio film di tanti anni fa dove c'era appunto il tipo che diceva copenhagen mura vitess è terminata 2 a 0 per il vitess quindi il muro del mura non ha retto ren e tottenham hanno fatto un pirotecnico 2 a 2 il quara baghe infezza ha fatto un pirotecnico per al contrario 0 a 0 squallidaus con il basilea l'anortosis ha perso in casa contro il partizan partizan berclado va a vincere 2 a 0 in casa dell'anortosis famagosta il bodoglint ha battuto 3 a 1 lo zoria già detto come già detto la roma ha battuto 5 a 1 il csk pass di sofia i randers hanno pareggiato 2 a 2 con la z almas squadra danese i randers pensavo che la z andasse a vincere invece 2 a 2 e infine jablonek ha vinto 1 a 0 su calcio di rigore ma il rigore è veramente una cosa oscena perché il difensore arriva una palla la tocca lui sta andando in porta cosa fa cadendo gli dà una smanacciata la butta fuori quindi rigore ed espulsione automatica mancavano anche pochi minuti alla fine lo jablonek non sbaglia e vince la partita 1 a 0 comunque ragazzoli come potete vedere anche qui non ci sono squadre materasso a parte forse la roma che maramardeggia perché forse forse anzi senza forse vedendo le squadre che ci sono in questo momento la roma può tranquillamente considerarsi insieme al tottenham e a poche altre la favorita per ora poi bisognerà vedere dall'europa league che squadre arriveranno sempre se arriveranno delle squadre dall'europa league perché sono 32 squadre divise sono otto gironi da quattro squadre passano le prime due che vanno ai sedicesimi quindi non vorrei che quest'anno è perché se se passano le prime due sono 32 squadre otto gironi passano le prime due sono 16 ne arrivano otto dall'europa league diventano 24 cosa fai altri sei gironi da quattro? no non credo devo andare a vedere perché non vorrei che magari non c'è più la storia che la terza dell'europa league raggiunga ma probabilmente qua passano solo le prime due e basta sia in europa league sia in conference league e in europa league passano le prime due e poi si aggiungeranno le altre otto che andranno a sfidare eventualmente le vincenti dei sedicesimi e sì e sì allora si passano le prime due le otto che scendono dall'europa league sfideranno poi le otto squadre che usciranno dalle sfide dei gironcini qua che faranno gli ottavi e poi faranno i quarti eccetera e credo che lo stesso capiterà in europa league dove le otto che scendono dalla champion sfideranno poi le vincenti delle sfide delle sedici squadre che sono uscite dal girone che ne resteranno solo otto perché sennò non verrebbe bene la questione perché negli anni passati in europa league c'erano sessantaquattro squadre quindi c'erano non otto c'erano di più 16 gironi 12 gironi erano di più comunque e ne uscivano 24 quindi c'erano 12 gironi 48 squadre adesso avendo aggiunto la conference e l'europa league abbiamo 32 squadre in champions 32 in europa league 32 in conference quelle della champion le terze della champion scendono in europa league quelle dell'europa league scendono in conference le terze e le quarte della conference vanno a casa però probabilmente siccome arrivano dall'europa league andranno a sfidare negli ottavi le otto squadre vincenti e dei sedicesimi di quelle che sono che hanno passato il turno appunto e poi faranno ottavi e quarti perché sennò non viene perché essendo otto gironi anche qua da quattro squadre passano le prime due sono 16 più otto fa 24 e cosa fai i dodicesimi i sesti e le terzine non puoi quindi probabilmente le otto squadre di europa league le otto squadre che scendono dalla champion entreranno in turno dagli ottavi di finale e saranno in attesa di vedere chi resterà vivo nelle sfide dei sedicesimi o degli ottavi bis anzi degli ottavi bis dell'europa league adesso controllo Europa e ve lo faccio sapere magari quando faccio le schedine e bollettine del gigione perché tutto è tutto nuovo quindi ci dobbiamo un attimino abituare e poi tra tre anni si ride che faranno sta cosa qua con 32 squadre in champions con dieci partite passano le prime le prime dodici se non sbaglio no le prime otto poi dal nono al ventiquattresimo posto fanno le sfide ne usciranno altre otto che andranno a sfidare le prime otto poi faranno tale mamma mia mamma mia mamma mia come diceva qualcuno vabbè ragazzoli mi sono dilungato un po' troppo ci vediamo alla prossima vado a vedere come sono andate le schedine e bollettine del gigione dell'europa league e della conference ciao 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 ciao